Come si sceglie il colore di un'auto, anzi di una Urus? E questa scelta cosa dice della nostra personalità? Lo scopriremo attraverso le risposte dei nostri ospiti. Bene, la prima domanda. Sono sicuro e affidabile. Chi lo sa? Penso anch'io che sono sicuro e affidabile, sì. Sicuramente un rock all'aperto. Musica classica in un bel auditorio. Quale frase si addice di più alla tua personalità? Sto bene con gli altri, ma anche mi isolo a volte. Sto benissimo da solo. Sono un'eremita, un cosiddetto orso. L'interno in carbonio. Più carbonio c'è, a mio avviso, più la macchina tra su da sportività. Sedili massaggianti in carbonio con l'alettone dietro in carbonio. Più optional, tutto assieme. Di eleganza, molto fine, discreto. Eleganza assolutamente, lo stile regressivo e sportivo. Spirato un po' di ragazza..... Grazie a tutti.